La location è tutt'altro che casuale. Sarà per il clima politico, reso incandescente dal terremoto giudiziario che ha travolto Forza Italia. Sarà per le imminenti elezioni europee e amministrative. Sarà per l'interminabile braccio di ferro con la Lega o forse per tutti questi motivi messi insieme. Fatto sta che il Movimento 5 Stelle sceglie l'odiato inceneritore di Buster Sizio per lanciare il proprio affondo contro un modo di far politica che ci si augura la nuova Tangentopoli, spazi via per sempre e per un pressing su un alleato di governo che, in calza il senatore Paragone, deve decidere da che parte stare. Gianluigi Paragone ha un clima piuttosto teso, quello della politica del Varisotto. Perché avete scelto di venire qui, davanti ad Accam? Perché ambiente e legalità sono due delle stelle del Movimento 5 Stelle e le vogliamo difendere. Quindi alla Lega diciamo chiaramente di crescere, di dirci da che parte vuole stare. Vuole lavorare ancora con il Movimento 5 Stelle per onorare il contratto di governo oppure stanno pensando di tornare con Berlusconi e con Forza Italia, con quelli che chiamano la mensa dei poveri, il ristorante dove si scambiavano le mazzette, un ristorante tutt'altro che economico. E quando tu chiami la mensa dei poveri o ambulatorio, il luogo dove fai la tua politica, non è mai un buon segno di vicinanza con le persone che soffrono. Quindi la Lega ci deve dire chiaramente da che parte vuole stare. Adesso le ambiguità sono finite. Facciamo che con Siri abbiamo già dato e abbiamo chiuso. Tu conosci molto bene questo territorio, l'ho anche raccontato tanto come giornalista. Possiamo dire con certezza che si apre una nuova fase politica. Io me lo auguro per il bene dei cittadini del Varesotto perché diciamo che quando la politica arriva a diventare un sistema feudale vuol dire che certe facce devono scomparire. Significa che è arrivato il tempo di cambiare una classe dirigente perché quella classe dirigente pure di rimanere negli stessi posti e sempre con gli stessi poteri poi diventa, come dicono le carte, un sistema feudale. Ecco che Caglianiello diventa il moulin. Bene, direi che basta, è ora di cambiare totalmente questa classe dirigente. Per quanto riguarda gli inceneritori, la parola d'ordine rimane sempre chiusura e comunque superamento di questi impianti. Oggi se dovessi prendere una macchina certamente non prenderei un diesel, guarderei alle nuove tecnologie e all'innovazione.